Cosa hai fatto? Chi l'ha fatto? Chi l'ha fatto? Chi l'ha fatto? Chi l'ha fatto? Ho fatto io. Un tempo. Ad lecimo, come le cose? Per spiegare cosa si è avvenuto. Questo qui era stato fatto inizialmente per buttarci le sigarette. Questi più grandi, erano piccolini, si erano appresi nei vari punti. Si prenderono le sigarette. Lui ha spiegato qui per... per... si. Ah va bene. Si, diciamo, ora poi questo qui è stato forato. E' stato... è stato fermato. Le sigarette di quattro, la sabbia, poi via le sigarette... Magari. Inizialmente la stava fatta senza fuori e ci hanno messo la sabbia per fare le sigarette. Ci hanno messo la sabbia per fare le sigarette. Poi è stato fatto questo grande e questo è stato forato e è stato opera per togliere le sigarette. E' stato fatto e' stato fatto come questo... E' stato fatto E' un po' di più che si riempia. E' un po' di più che si riempia. E come si chiedono? E come si chiedono? E' un po' di più che si chiedono. Questo è un nome, come si chiamano? Tutto lo chiamano? Uomo? Oh, Vepolini! E' una specie di filtro! E' un filtro per cogliere le sigarette! Ma cazzo da dove stiamo? Quanto tempo fa la patto? Quanto tempo fa la patto? E' una specie di registro! 5 mesi! Un anno! Un anno! Perché altri mesi le sigarette erano sempre per terra! E noi non toliamo sempre per le sigarette! E noi non toliamo sempre per le sigarette! Ah, spiega! E ci sono passi! E noi non toliamo sempre per le sigarette! E noi non sollevo le sigarette! E quindi non sollevo le sigarette! E le sigarette erano sempre per le sigarette! Ma le sigarette erano apprezzate! Le sigarette erano apprezzate? Cosa? le persone sono malatoate poveri, poveri, come qui nella sabbia si spiega meglio anche se uno la mette lì nel portacelle bisogna che la spegni bene magari tira vento, portagli invece qui guarda che la metti qua dentro e qui sono uscite un po' e due c'è il sigaretto e qui sono uscite un po' e due c'è il sigaretto e poi perché passa tanta gente qui nel portacelle piccolo non solo per chi lavora qui ma la gente mi vuole vedendo un po' e due c'è la prima ormai avete un portacelle piccolo non viene neanche visto ma viene in Vietnam non viene un po' e due c'è ha detto sempre tu ma non vi ha dei video ha visto questo centro a qualche posto l'ho impattato lei è quello che ho vinto e oggi ti parlo non è che si è vinto da qua ma io non mi ricordo non lo so ma insomma è un'idea si fa con gli attrezzi che abbiamo cioè questo questo è un bidone dove sono questo è un tubo un tubo d'acciaio questo è un bidone che si lascia anche le sigarette anche questo questo e questo questo e questo tutte e due minchia va bene va bene va bene ok e devi fare un po' il foglio sì sì vediamo qui va bene va bene qui va bene qui